Sia al coordinamento europeo ma seguendo un principio di cautela al vertice di Bruxelles Draghi ha il dialogo sul virus ma tira dritto, l'obbligo di tampone per chi arriva dall'estero Europa compresa non si tocca. Mattarella al corpo diplomatico oggi per me è un commiato virus nemico comune ci si salva solo tutti insieme stamane in Vaticano il congedo da Papa Francesco. L'economist in corona Draghi, Italia paese dell'anno, è la nazione che ha affrontato meglio il covid grazie a un primo ministro competente e rispettato che deve rimanere premier per la stabilità del paese. Faccini partita la campagna per la fascia 5-11 anni, record di contagi nel Regno Unito 88.000 in un solo giorno. Mario Draghi a Bruxelles difende la scelta dei tamponi per gli arrivi dall'estero così manteniamo il vantaggio su Omicron, la commissione chiede misure coordinate. Dalla pandemia e da altre emergenze ammonisce Mattarella, la comunità internazionale si può salvare solo agendo insieme. Lotta alla pandemia e alla variante Omicron al centro del Consiglio europeo nel quale non sono mancate le critiche all'Italia che con... Buonasera, benvenuti a TGTG. Avete visto i titoli, le aperture dei telegiornali di questa sera. Noi questa sera invece continuiamo a parlare di, in qualche modo, della pandemia, ma parliamo di vaccini perché oggi è stato il giorno in cui praticamente in tutta Italia è cominciata la vaccinazione dei bambini, compresi tra i 5 e gli 11 anni, quelli che fino a questo momento non erano compresi nella campagna vaccinale. Nessuna contraindicazione, vaccino sicuro, lo dimostrano anche i dati che arrivano dai paesi che hanno cominciato prima di noi, Stati Uniti in particolare, dove più di 4 milioni di bambini sono già stati vaccinati. Tutto quello che c'è da sapere sulla vaccinazione degli under 12 lo chiederemo questa sera al dottor Guido Castelli Gattinara, pediata dell'ospedale Bambino Gesù di Roma. Buonasera dottore, benvenuto, bentornato. Grazie. E parleremo ovviamente di vaccini, ma anche dell'andamento della pandemia a pochi giorni dal Natale con il professor Roberto Cauda, infettivologo del Policlinico Gemelli di Roma. Buonasera, bentornato anche a lei professore. Buonasera ad entrambi. Grazie. E ovviamente a chi ci sta ascoltando in questo momento. Ovviamente, come no. Allora cominciamo subito col dottor Castelli Gattinara. Allora perché vaccinare i bambini, i nostri figli? Io mi metto sono un padre e ho una bimba in età vaccinale a questo punto. Perché dobbiamo vaccinarli? Per proteggerli, per proteggerli nei confronti di un'infezione che è un'infezione che sappiamo può essere pericolosa. Può essere pericolosa per i grandi, per gli adulti, per gli anziani, ma anche per i bambini. E quindi abbiamo la possibilità di proteggerli e quindi dobbiamo proteggerli. Così come li proteggiamo nei confronti degli altri virus, il morbillo, la meningite, tutte le vaccinazioni che facciamo, dobbiamo fare anche la vaccinazione contro il Covid-19. Perché il Covid-19 è una infezione che può dare dei problemi clinici gravi. E questo purtroppo l'abbiamo osservato nei nostri ospedali, anche nei bambini e negli adolescenti. E, naturalmente, se abbiamo un'arma che ci permette di evitare l'infezione del bambino e dell'adolescente, ci permette di evitare quelle che sono le complicanze, la famosa MIS-C, cioè questa sindrome infiammatoria multiorgano che ha portato tanti bambini anche in terapia intensiva. Contro il Long Covid, di cui adesso si parla, anche per l'infanzia, cioè queste manifestazioni cliniche che durano molti mesi anche dopo l'infezione, anche dopo infezioni non gravi. Beh, allora dobbiamo utilizzarlo. E siccome è sicuro e siccome funziona ed efficace, dobbiamo utilizzarlo. Lei ha detto già benissimo che sono stati utilizzati in altri paesi, in altre nazioni. In America ormai hanno passato i 5 milioni e mezzo di dosi somministrate e poi ci sono tutte quelle dati in Israele, in altre nazioni anche europee e da questi dati si evince che in realtà il vaccino è un vaccino sicuro. E questo è il messaggio che bisogna dare chiaramente ai genitori che hanno, come lei mi diceva anche prima, qualche perplessità, qualche dubbio ancora. Io capisco i genitori che si possa avere qualche dubbio in più, ecco. Sì, perché è una cosa nuova, però è una cosa nuova che funziona e che funziona bene. È un vaccino nuovo che è sicuro, un vaccino con una nuova tecnica, un nuovo sistema di funzionamento che ha dimostrato di essere estremamente efficace, con una copertura nei bambini oltre il 90% e con dei dosaggi, fra l'altro, soprattutto adesso parliamo della fascia dai 5 agli 11 anni che sono i dosaggi inferiori di quelli che abbiamo usato e stiamo usando per gli adolescenti o per gli adulti. È un terzo della dose, 10 microgrammi. E questo probabilmente è la motivazione degli effetti collaterali minimi che questo vaccino dà. Professor Cauda, le volevo chiedere, si parla, insomma abbiamo cominciato a vaccinare anche i bambini perché è cambiato il quadro, è cambiato il contesto, è mutato il virus. Prima non se ne parlava perché molte persone dicono perché un anno fa, oppure perché dall'inizio della campagna vaccinale era stata esclusa questa fascia di età. Che cosa è cambiato adesso? Erano stati esclusi per una ragione molto semplice, che gli studi non erano stati ancora effettuati nei bambini e la ragione per cui bisogna vaccinare i bambini sono state dette molto bene dal collega e amico dottor Castelli che ha praticamente detto tutto. Il bambino si deve proteggere. Noi non ci poniamo tanti problemi per malattie tipo il morbillo o tipo altri tipi di malattie che magari non hanno un decorso così grave. Io sento dire ma il bambino non si ammala così gravemente e quindi non lo facciamo vaccinare. In realtà i bambini si ammalano e possono anche avere delle forme gravi, ma in più quando si vaccinano i bambini gli si assicura una vita sociale e ad esempio la frequenza alle scuole che non è un elemento secondario. Mi permetto qui ricordare una valutazione che è stata fatta tipo intervista su un numero notevole di genitori negli Stati Uniti dove come è stato ricordato già 4 milioni di bambini sono stati vaccinati e la maggioranza, sembra attorno al 70% delle persone intervistate, dei genitori erano favorevoli alla vaccinazione. Ma chi era soprattutto favorevole? Chi aveva avuto delle esperienze o personali gravi sul Covid o che conosceva persone morte col Covid o chi aveva una visto che le persone di bambini non andavano a scuola. Quindi tutto questo dovrebbe indurre i genitori a considerare questo vaccino perché in realtà ne stiamo parlando di solo uno, quello di Pfizer, anche se io credo a breve ci saranno ulteriori studi che consentiranno di ampliare la platea dei vaccini. Poi se ne parla poco ma un altro paese che ha fatto credo miliardi, ha vaccinato miliardi di persone che è la Cina, da tempo sta vaccinando anche i bambini. È vero, un vaccino diverso ma è un approccio questo in tutto il mondo perché finché non si limiterà la circolazione anche in questa fascia di età il virus continuerà a circolare. E una battuta me la consentite sull'omicron, i colleghi sudafricani, anche se ne hanno riconosciuto la non gravità in generale, hanno osservato una maggiore frequenza di ricoveri nei bambini e quindi questo ci dovrebbe riflettere che la vaccinazione ci protegge, protegge i bambini sia nel presente, sia nelle eventuali nuove varianti che dovessero emergere. Adesso con l'immagine andiamo a vedere un po' questo primo giorno di timori anche dei bimbi ma anche di felicità per alcuno. Insomma abbiamo fatto una raccolta delle immagini che arrivano dall'Italia di questo primo giorno di vaccinazione. Vediamo. I bambini prenotati solo in questo istituto comprensivo sono circa 40. È chiaro che l'offerta vaccinale sarà comunque aperta a tutti quelli che verranno stamattina. Grazie a tutti. Ho paura che mi faccia male solo il pizzico, diciamo, del lago. No, il dottor Castelli Castelli Gattinale, insomma, il timore del lago ovviamente, però c'è, stato anche, insomma, coraggio. Molti bambini, adesso sentendo e vedendo anche delle voci, ascoltando, insomma, bambini che hanno insistito con i genitori per andare a fare questo vaccino, forse l'hanno capito meglio di tanti adulti, insomma, questa importanza. Sì, e oltretutto bisogna starli anche a sentire sia i bambini che gli adolescenti, cioè sentire quello che è il loro parere, la loro volontà di essere vaccinati. Noi abbiamo fatto un'esperienza con l'Istituto per la Salute dei Bambini e dell'Adolescente, del Bambin Gesù, facendo degli interventi in alcune scuole romane e andando a spiegare che cos'erano la pandemia, che cos'erano i vaccini, cosa servivano i pro e i contro ai ragazzi di seconda e terza media. Beh, alla fine di questa esperienza, in una serie di lezioni, abbiamo raccolto quelle che erano le impressioni di questi ragazzi, i quali volevano per il 95% essere vaccinati, cioè loro vogliono essere vaccinati. Come ha detto appunto il professor Cauda, l'amico Cauda, è importante perché per loro gli permette di avere anche una vita normale. Per loro è importante andare a scuola, è importante andare a fare lo sport, stare tutti insieme. Questo il vaccino lo facilita, li protegge e quindi questa è una delle motivazioni per cui i bambini e i ragazzi vogliono essere vaccinati. E poi sono allegri, sono contenti. Noi vacciniamo i bambini sempre da quando nascono quasi, nel primo anno di vita, con decine di vaccinazioni, per fortuna, perché così abbiamo una sopravvivenza di questi bambini che diventa sempre più lunga. E lo stesso li vaccineremo contro il Covid e li vaccineremo questi adesso dai 5 agli 11 anni. Probabilmente domani potremo vaccinare anche quelli più piccoli perché devono essere protetti tutti, assolutamente protetti tutti. Professore, nel frattempo però aumentano i contagi anche in Italia, oggi oltre 26 mila, purtroppo anche i decessi, ormai costantemente sopra i 100. Ecco, volevo chiedere a pochi giorni dal Natale a che punto siamo di questa pandemia che volevo chiedere anche se la variante Omicron, che insomma è arrivata anche in Italia, anche se come diffusione ancora, ma non lo possiamo sapere nei numeri esatti, però ancora ovviamente non è la dominante, possa peggiorare una situazione che sta peggiorando. Questo è indubbio dirlo, anche se il rapporto poi tra contagi e ricoveri è molto più basso rispetto a un anno fa. Esattamente, si osserva questa dicotomia tra un aumento considerevole dei contagi ma che non ha un suo corrispettivo in aumento di ricoveri in ospedale e in terapia intensiva. Però è chiaro che aumentando i contagi, prima o poi, e già abbiamo visto che alcune regioni sono andate in giallo, altre andranno, vuol dire che c'è una pressione, uno stress su ospedali e terapie intensive e questo può avere un effetto anche nel ritardare, ad esempio, o dilazionare cure per altri tipi di patologie. È un momento delicato questo, di oltre 6 milioni e mezzo di italiani elegibili al di fuori dell'età pediatrica alla vaccinazione che non si sono vaccinati pesano, sono distribuiti praticamente in tutto il territorio nazionale e pesano soprattutto quei 2 milioni e mezzo di over 50 anni che hanno forme più gravi e che quindi possono in qualche modo essere ricoverati. È una sorta di braccio di ferro tra l'effetto della vaccinazione e l'effetto dei contagi nei non vaccinati. Si aggiunga che purtroppo abbiamo scoperto che c'è una immunità che tende a diminuire nel tempo e quindi è anche una corsa a fare la terza dose. Come se ne esce da questa situazione? Oltre che cercare di aumentare le prime dosi, stanno aumentando anche in forza credo del super green pass, nel vaccinare il più possibile con la terza dose, ma anche non dimentichiamoci mantenere quelle misure di prevenzione delle quali ci eravamo un po' scordate. Io da settimane, forse da mesi, continuo a dire che bisogna ritornare a misure più restrittive come ad esempio l'uso delle mascherine all'aperto. Non è che risolve il problema, però certamente può aiutare, soprattutto in un momento come questo dove per una serie di ragioni, anche di shopping, la gente tende a essere un po' a calcarsi nelle strade. Quindi direi grandissima cautela per l'omicron. Vedremo, stiamo imparando a conoscerla. Alcuni sono molto preoccupati, io con loro, altri tendono a gettare un po' di acqua sul fuoco. Ma in questo momento direi la cosa che possiamo dire è che dobbiamo aspettare e vedere. È possibile che ci possa essere nelle prossime settimane un aumento dovuto all'inevitabile ingresso di omicron e quando una variante si replica meglio, ha un vantaggio biologico sulla delta, come la delta ha soppiantato l'alfa, l'omicron potrebbe, il condizionale d'obbligo, soppiantare delta. Va fatto il sequenziamento molto di più di quanto non se ne stia facendo oggi in Italia per capire i focolai eventuali di omicron. Ecco, dottor Castelli Gattinara, io volevo passare su un altro fronte che tiene un po', non dico col fiato sospeso, le famiglie, però che sta preoccupando la questione della bronchiolite, insomma la diffusione di un virus respiratorio sinciziale, che sta preoccupando. Ecco, lei è un pediatra, lavora in un ospedale pediatrico, insomma avrà un'esperienza. Ecco, qual è l'incidenza? C'è sempre stato ovviamente. Perché se ne sta parlando di più in queste settimane, in questi giorni? e come si riconosce se può essere confuso col Covid, con un'influenza? Insomma, a cosa dobbiamo stare attenti? Beh, bisogna stare attenti a evitare il contagio, e questo vale per qualsiasi virus, vale per i virus influenzali, vale per il respiratorio sinciziale. Ma colpisce bambini molto piccoli, no? Colpisce bambini molto piccoli, quindi in ogni caso evitare di mettere questi bambini particolarmente piccoli, a contatto con altri bambini più grandi, nei quali questo virus respiratorio sinciziale dà meno problemi e meno danni. È un virus che c'è sempre stato. La differenza è che l'anno scorso, con il distanziamento, le mascherine, il lavaggio delle mani e tutte le cose che ha dato l'amico cauda importantissime, questo virus è girato molto di meno, sia questo che il virus influenzale. Quindi abbiamo la possibilità appunto di ridurlo. Mentre quest'anno forse è stato abbassato un po' le precauzioni e quindi si è diffuso di più. Questo virus sappiamo che può dare delle costrizioni, dei bronchioli del polmone, cioè i tubicini dove passa l'aria e quindi questi bambini respirano male. Allora se abbiamo i nostri figli, lei prima appunto mi chiedeva anche per il suo piccolino, che hanno una tosse molto insistente, una tosse che tende ad aggravarsi, lo si vede respirare male, magari proprio con una difficoltà a respirare, con quelli che noi chiamiamo i rientramenti intercostali o al giuglo, cioè proprio nel petto che tende a rientrare, e allora a quel punto è importante in ogni caso chiamare il proprio pediatra, perché poi tutti noi dobbiamo fare riferimento al nostro pediatra che è importantissimo, ma poi nei casi in cui veramente dovesse respirare male andare a controllo nel pronto soccorso. Benissimo, non abbiamo più tempo, ringrazio il dottor Castelli Gattinara per essere stato con noi. Grazie a voi. Grazie, grazie anche al professor Roberto Cauda, grazie professore. Grazie a voi come sempre. Buona serata a tutti. Allora noi finiamo qui, dopo di noi però c'è un film, The Iron Lady, con una Meryl Streep da Oscar, guardatelo, bellissimo film, interpretazione di Margaret Thatcher. TGTG torna l'anno prossimo, a gennaio del 2022, questa è l'ultima puntata, ci saranno le feste, torniamo subito dopo, grazie per averci seguito, buona serata a tutti. Grazie.